Inizia il conto alla rovescia per i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex caserma Passalacqua con la zona universitaria di Verona, che potrà finalmente avere il parco da cui da tanto tempo si parla. Il progetto che sta per partire riguarda l'area fra Santa Marta e il polo Zanotto dell'università. Oltre che sul verde pubblico si interverrà anche sulla viabilità, realizzando una rotonda all'incrocio tra via dell'Artigliere, via San Francesco e via Campofiore. Si metterà anche mano al muro di Alberto della Scala, 400 metri di muraglia monumentale tra il bastione delle Maddalene e il viale dell'università, che verrà ripulito e messo in sicurezza, creando un collegamento diretto fra i due estremi. L'avvio dei cantieri è previsto entro 180 giorni e quindi un anno per finire il parco e sistemare la cinta muraria, sei mesi invece per aggiustare la viabilità. I tempi di realizzazione è presumibile che anticiperanno quelli di consegna. I nuovi appartamenti previsti dalla Convenzione avranno infatti l'agibilità solo ad avvenuto collaudo delle opere pubbliche, aspetto che dovrebbe stimolare i costruttori ad accelerare i lavori. I costi complessivi delle opere, a carico dell'ATI che realizza la quota di residenziale, sono di quasi 3 milioni e mezzo di euro.